Musica Bella a tutti ragazzi sono Medina e bentornati sul mio canale con un nuovo video Sono qua in compagnia di Velox Bella raga, ciao a tutti E siamo qua a fare questo live commentary su deathmatch con i fucili a pompa Tutti e due facciamo una bella pompata di gruppo Cioè non fraintendete No, questa battuta l'hai già fatto una volta abbastanza Si è vero, perché non è la prima volta che proviamo a registrare Semplicemente io con il pompa sono ritardato E nulla, passate anche sul canale di Leo Che oggi in simultanea è uscito anche lo stesso più o meno video Però che cazzo fischia questo Lo stesso video più o meno il mio cellulare Fatto con le pistole E Leo in quel video si è improvvisato Gesù Cristo Tipo non si sa come Cioè ha iniziato a fare robe sconcertanti Ma oltre alle feed dai Racconta un po' a te di quel video che è il tuo video Ho praticamente quasi fatto, vabbè quasi no Ho fatto 23 di fila con la pistola Cazzo se facevo il nuclear ragazzi era Da fare esplodere YouTube Italia Cazzo Ma davvero? Lì tranquillo eravamo in due Faccio il nuclear con le pistole in live Poi c'ero io che dicevo Sì, ok, va bene Riesco a fare due kiss di fila No, semplicemente Leo con le pistole È tipo il dio delle pistole Non c'è niente da fare Prima kill, perfetto Cowboy Dove sono i nemici, scusa? Tutti qua Ah, sono tutti da te Oddio Allora vengo e te li rubo tutti Ho fatto una bella tripla Sono già 3-0 Comunque ragazzi, come si è dimenticato di dirlo Questa è una piccola sfida C'è fatto logicamente per scherzo Perché non è che voglio sfidare Leo Solo perché so già che perdo Dico così Una piccola sfida per divertirci Chi fa più kills col pompa Anche sul suo canale teoricamente era una sfida per divertirsi Solo che dopo un po' è diventato un monopolio Un monopolio di Velox Tipo io non facevo niente Lui distruggevo Ok, sono 5-0 Vuoi vedere che magari il pompa lo so usare Semplicemente mi sta sul cazzo con Vine? Vuoi vedere? Ma questa mappa te l'ho detto mille volte È perfetta per il pompa Sì, sta mappa da giocare La mappa è con una zona centrale Oh, ma quelli camperano Basta, non vado a prenderli Sei 7-0 Oh, lo so, sono partito bene Ora mori, inizia a morire Scleric Cazzo, sono i nemici Altro Io non li trovo Perfetto Ragazzi siamo 9-0 e 4-0 Stiamo facendo una strage spaventosa Ma non ho capito perché non li trovo Perché stanno fermi, cioè Tio, tio, tio Aspettate che mire un attimo con lo sky Qua che tra due kills Minchia Ero a una dall'elicottero A una, due dall'elicottero Cazzo, stanno camperando in fondo allo spawn E mi hanno ucciso da dietro Un camper che è arrivato dal nulla Dai, è iniziata bene comunque la partita Comunque sto pompa ragazzi fa un casino di hitmark Che ero notato Mi fa davvero sclerare E sempre il KRM Il primo Madonna Ma questi stanno tutti fermi E mi ammazzano da dietro Sì 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 In effetti sono davvero molto campers Nella casa centrale C'è da dire Sono lì fermi Magari forse nella casa centrale Stanno allo spawn Sono lì fermi a non fare niente Se stanno nelle casetine Perdono Perdono Perché Godo Ho ucciso uno con la pistola Che ti brusa Sì magari Sono un coglione Ho preso fuoco anch'io Dai io passa Madonna Ho tirato la granata L'ho ucciso Poi ho detto Beh Camminiamo E ci sono camminato sopra E mi stavo prendendo fuoco anch'io Ok dai Siamo 10-2 7-2 Stava venendo fuori una Partita Tutto sommato carina Qua su Exodus Il problema di fondo è che Questi stanno a fondo spawn Sì E stanno a fondo spawn Con il pompa Non li puoi prendere E sei fottuto E questo è il gioco Il loro gioco Si basa principalmente su questo Vediamo un po' Granatina La tattica là Guarda Tutti a fondo spawn E ancora lì Non puoi andarle a prendere Te lo dico Perché ho li flanchi E te li prendi da dietro E io che Io sto girando più o meno a casa E sto cercando di capire un attimo Dove sono Ne trovo uno ogni tre quarti d'ora Ecco 2-12 Non ho ben Non ho ben capito Siamo 12-3 E 11-2 Stiamo davvero devastando molto bene Se ne trovi qualcuno Se si l'ho visto Mi sta ammazzando E avevo le stricche Mannaggia lui Ok sono tutti là Cazzo Adesso qua Non è proprio facile Perché Sono lì in fondo E arrivarci lì in fondo Non è facile Ok strisciata Ok uno l'ho preso L'altro Sta scappando Eh vaffanculo Gli sono andato incontro E è scappato saltando indietro Non potevo neanche spararli Più che attaccarmi Non potevo fare Aspettate che lì Una granatina Guardate tutti là dentro Ora mamma mia Vado lì Spacco Ok Non c'è più Ok C'è uno qua sotto Ci ammazza Attento Oddio Ehi Nedglice Attento C'è uno a fianco È a fianco a te Ok Era di spalle L'hai preso? Sì ma Non era Perfetto Ce ne sono anche altri Probabilmente Sì qua Probabilmente c'è qualcuno No non c'è nessuno Ok Sono nella casa Qua in mezzo Sì sono nella casa Al centro per forza Su chi Ho paura di andare Perché non ho voglia Di fare morti stupide Ma vabbè Non muore E dentro la casa Gli dà un colpo Proprio da qualsiasi distanza Ok volevo fare solamente Quella kills Con lo Skype Oddio M'hanno M'hanno etichettato Adesso come faccio Aspettiamo un attimo Ok Aiuto Leo Sono tutti qua fuori No Mi è arrivato uno Da dietro nella casa Mi è arrivato uno Da dietro nella casa Sono in G Cazzo Spaccato un tipo 17-5-14-4 La partita sta venendo Di per sé Buona Adesso non so Più che altro Mi sembra che stia venendo Abbastanza lunga Ma comunque non è un problema Sì No vabbè Quello non è un problema Almeno non stiamo Morendo Troppe volte Sto piazzando le api assassine Dove sono questi Per me sono allo Spon qua fuori Da qualche parte Non riesco a capire Ti giuro Guardalo Perfetto Madonna che campers Proprio allo spawn In fondo In fondo Oddio Ostia Mi stava tornando Che camper Fermo lì Nello spawn A guardare Poi logicamente Ragazzi siete abituati A vedere partite Di deathmatch Con tantissime kills Quelle sono quelle Fate da solo Perché se giochi Col gruppo Che non ti sopporta Come io e Leo Adesso che giochiamo Ognuno per i cazzi nostri Fare tante kills Su deathmatch Può un po' Non pompa È impossibile Perché comunque Ce le si ruba A vicenda No Grande Tripla di Leo Leo che fa la tripla E mi supera Sì Hai fatto doppia di fulminio E uno col pompa Oddio Cazzo Perfetto UAV UAV molto importante Col pompa 75 Manca pochissimo Oddio dove sono Scappa Muori Perfetto Perfetto ragazzi Siamo 23 5 A 24 Oddio Siamo davvero Troppo attaccati Preso Preso Qua c'era qualcuno Da qualche parte No Leo Leo al Cerberus Mi batte No Non fanno mai Che le mie streak Fanno cagare Guarda Guarda Se ne va via Dai mi dice E ci devi sparare Di scappa No Ce ne avevo 3 davanti Potevo fare triple E superarti Vabbè raga Anche al di fuori Della sfida In cui Leo ormai ha vinto Penso sia venuta Una bella partita Perché abbiamo fatto Davvero una bella strage Oddio Cazzo Mi si è teletrasportato Davanti Con glitch Hai matematicamente Verso Per una kill LOL Ora rido Se fai l'ultima kill Ecco L'ultima kill Che ha rovinato tutto No dai ragazzi Abbiamo davvero Devastato Abbastanza bene In questa partita 25-7 28-8 Leo ha vinto Solamente perché aveva Le streaks Guarda Guarda Mamma mia Che schifoso Ho smirato il mio drone Che cosa sta sparando Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così vi invito Lasciare un bel mi piace Un commento E passare dal canale di Leo Che trovate in descrizione Anche dai links Che trovate qua sotto Guardate il video Che ha fatto qui Grazie Gli come ho detto È già molto figo Per oggi Damirino è tutto E Bella Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti